Rituale del ritorno d'amore. Allora, questa pratica, questo rito, che serve ad attivare una entità specifica che è Metcalfur, un loa del voodoo, si esegue per far tornare un amore, un amante, un marito, una moglie che se n'è andato, un compagno. Ma anche per rinvigorire, diciamo così, un sentimento che in qualche modo si sta un po' spegnendo. Allora, intanto dobbiamo tenere presente questo, che c'è un giorno preciso, che è il lunedì, in cui ho fatto questo rituale. La fase lunare è molto importante, la luna deve essere luna crescente o eventualmente luna piena. E l'orario in cui va effettuato il rituale è mezzanotte, cioè mezzanotte, perché questo loa, diciamo, ha questa caratteristica. Allora, quello che serve sono due candele, che possono essere anche, diciamo, a forma di uomo o di donna, se ne possono trovare, oppure candele normali, però devono essere di colore una rossa e una nera, quella della donna di colore, quella che simboleggia la donna di colore rosso e quella che simboleggia l'uomo di colore nero. O se fosse un ritorno, diciamo, di una coppia gay, se due donne rosso-rosso, due uomini nero-nero, eventualmente, ovviamente. Quello che va fatto, la candela va battezzata. Battezzata significa che bisogna scrivere su una candela il nome della persona che vogliamo attrarre, nome, cognome e data di nascita. Sull'altra candela scriviamo il nostro nome e cognome e data di nascita. Per scrivere su una candela basta utilizzare un punteruolo, che può essere uno spillo, un qualcosa a punta, che possa incidere la candela e scrivere, diciamo, sul dorso della candela. Dopodiché, una volta che è stato inciso il nome sulle due candele, la candela va unta con olio d'oliva extravergine. Bisogna quindi prendere un po' d'olio e passarlo su tutta la superficie della candela. Questo è quello che, diciamo, porta al battesimo. Poi serve un panno rosso e del nastro nero. Del nastro nero. Quello che serve ancora è, potete qua scaricarlo da internet, oppure chi ce l'ha, insomma, serve una foto di Sant'Andrea. Sant'Andrea, da un punto di vista del, diciamo, del voodoo, rappresenta Metcalfu. Si può scaricare, diciamo, o si può prendere, se qualcuno ce l'ha, insomma, anche questo si trova ampiamente nel web, una statuetta di Sant'Andrea, ma va bene anche una fotografia di Sant'Andrea, un'immagine di Sant'Andrea, scaricata dal web, volendo, se non si riesce ad avere. Se, invece, uno poi vuole fare più rituali dedicati a questo loa, basta prendere, appunto, un'immagine, si può anche ordinare, appunto, una statuetta di Sant'Andrea. Una volta che si è fatta questa cosa qua, bisogna stendere il panno rosso, al centro del panno rosso mettere la statuetta di, o la statuetta o l'immagine di Sant'Andrea, e vicino le candele, rosse e le candele nere, devono essere unite e legate con il nastro nero. A questo punto si, diciamo, si recita la prima, diciamo, formula di apertura del rito a Metcalfu, che è la seguente Questo è quello che, diciamo, deve essere fatto Per iniziare. A questo punto si legano le candele, legate assieme, si può mettere, diciamo, un sostegno per tenerle in piedi, eventualmente, tanto si devono accendere, si fa colare un po' di cero, in modo tale che le candele possano rimanere in piedi. Si accende dell'incenso e si recita la formula per il ritorno, che è la seguente Per il potere del Signore del Crocicchi, Metcalfu, io, e poi impongo a, e nomino la persona su cui voglio agire, di ritornare da, e metto il nome di me stesso fondamentalmente, e tornerà fedele, mansueto, innamorato. Non guarderai nessuno che non sia, metti il tuo nome, sarà la tua aria, e senza di lei o lui, non avrai respiro. Sarà la tua acqua, e senza di lei o lui, vagherai disperato o disperata. Sarà il tuo pane, e senza di lei o lui, la tua vita non avrà sapore. Sarà il tuo cuore, e senza di lei o lui, non potrai riposare. Sarà il tuo cervello, e senza di lei o lui, non potrai né pensare né agire. Nel nome di colui che veglia sui cammini della vita, ed il cui nome regna e governa dalla notte dei tempi, Metcalfu, intercedi per me, ed ascolta la mia supplica. Ti prometto che saprò ringraziarti per il tuo ausilio. A questo punto bisogna lasciare consumare le candele, diciamo, e bisogna mettere, diciamo, una volta che le candele sono consumate, bisogna mettere sul panno rosso una donazione, diciamo, un'offerta a Metcalfu. Metcalfu, le offerte che preferisce sono whisky e sigari, e quindi puoi lasciare una bottiglia di whisky, un pacco di sigari, o un sigaro, e dei fiammiferi aperti, dei cerini aperti, con la scatola aperta, e devi lasciare tutto questo su un tavolo per sette giorni, e al termine di questi sette giorni devi prendere tutto, il whisky, i sigari, i cerini, e anche i residui, diciamo, della candela, e avvolgerli nel panno rosso, o comunque metterli nel panno rosso, o comunque metterli poi in un sacco, e andare a seppellirli nei pressi di un albero ad alto fusto. Dopodiché non devi più passare, diciamo, per altri sette giorni nelle vicinanze di questo albero. E questo è il rito per far tornare la persona che ti interessa. Bene, seguimi su Instagram, su TikTok, e ti ricordo che sul canale, diciamo, puoi attivare la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi Instagram e TikTok, Massimo Terramas.